Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Sottoscacco Speciale Elezioni, la trasmissione di Saronno.tv che ci sta conducendo, che vi sta conducendo verso le amministrative che si terranno, oramai manca davvero poco, il 31 di maggio qui a Saronno. Partiamo subito col presentare gli ospiti di questa sera. Presentiamo subito Alessandro Fagioli. Buonasera Fagioli. Buonasera a tutti, grazie a Saronno.tv per questa opportunità. Allora Alessandro Fagioli è il candidato sindaco che racchiude in sé quattro partiti, quattro differenti liste. Lega Nord, Fratelli d'Italia, Doma Nunc e Saronno protagonista. Proprio di Saronno protagonista e per Saronno protagonista abbiamo come ospite Guido Angeli. Buonasera a tutti e grazie a Saronno. Guido Angeli candidato in lista appunto con Saronno protagonista. Rompiamo il ghiaccio, siamo qui tra gli scacchi. Insomma, Fagioli, lei come è messo al gioco degli scacchi? È un gioco appassionante, di strategia, molto divertente. Alle volte le partite si dilungano, quando si può si gioca volentieri. E come pedina? Le torri perché quando entrano spazzano via tutto. Benissimo, Guido Angeli invece? Assolutamente appassionato di scacchi, poco tempo per giocare a scacchi purtroppo, però è un gioco che mi piace tantissimo. E come pedina? In cosa si riconosce? Senza ombra di dubbio il cavallo, perché si muove molto liberamente in maniera molto strategica sulla scacchiera. Benissimo, dopo aver rotto il ghiaccio con queste domande sui generis, diciamo così, che ci contraddistinguono, passiamo a conoscervi come persone, come cittadini, come frequentatori anche della città di Saronno. Non siete solo politici o comunque cittadini che si interessano molto alla politica, ma siete prima di tutto persone, come tutti noi. Facciamo una presentazione, partendo da Alessandro Fagioli, una presentazione del suo passato, le sue passioni, qualcosa in particolare. Saronnese, dalla nascita ho frequentato le scuole di Saronno, perito industriale, ho vissuto la città da bambino, da ragazzino, frequentando piscina, campi da tennis, quindi varie tipologie di sport, ma sempre a livello amatoriale. E in adolescenza mi sono dedicato sempre a livello amatoriale, alla musica rock e mi sono dilettato con amici e compagni di scuola in vari gruppi, suonando anche in diversi locali della provincia di Varese. Strumento? Chitarra elettrica e basso. Altre piatti preferiti? Cosa ti piace mangiare? Ma amo gli antipasti, i primi di tutto, ma cocktail non più di tanto, sono più da birra e ogni tanto qualche mojito. Passiamo a Guido Angeli, presentazione. Io sono di importazione, nel senso che Saronno è una città che ormai vivo da tanti anni, circa 25, anche se in maniera indiretta, principalmente per scopi professionali, per cui per varie attività lavorative che ho svolto sul territorio, ma anche perché sono qui vicino, mi appoggio proprio a un paese qua vicino, Saronno, dove vivo abitualmente. Ho delle attività appunto sulla città, è una città che ho imparato ad amare già tanti anni fa, quando la vidi per la prima volta, perché trovai Saronno un crocevia interessante sotto tanti punti di vista, sia commercialmente parlando, ma anche proprio come città da vivere, da poter davvero soddisfare un po' tutte le esigenze di una persona come me che arriva dalla provincia. Animali domestici, passioni a di fuori della... Assolutamente sì, sono un grande amante degli animali, principalmente dei gatti, perché più che altro per questioni pratiche di tempo, sono a terra i cani, i conigli e quant'altro, a me piace davvero tutto. Lei con rock come hai messo? Con rock direi abbastanza bene, anzi molto bene, penso che si possa intendere anche dal mio look. Qualcuno mi dice che sono rimasto agli anni 80, io ne sono ben fiero di questo. Io non suono però, ma ho fatto il manager musicale per diverso tempo. Benissimo. Veniamo da cinque anni di amministrazione di Luciano Porro, del PD. Dal vostro punto di vista, cosa è andato bene e cosa è andato meno bene? Ma sul cosa è andato bene, possiamo dire che ci hanno messo tanto impegno da questo punto di vista, nessuno glielo può negare. Cosa non è andato bene, ci sono diversi aspetti. Aspetti di natura più politico-istituzionale, quindi, hanno fatto sì che Saronno si chiudesse in un angolo nei confronti degli altri enti istituzionali. E per quanto riguarda la vita amministrativa cittadina, ogni qualvolta i cittadini e anche le opposizioni presentavano problematiche a livello locale, veniva sempre negato il tutto e rimbalzato ad altri tipi di problemi, soprattutto sulla questione della sicurezza. Guido? Io credo che questa città oggi abbia perso un po' il suo smalto, per cui forse si poteva fare qualcosa di più. Forse prestando anche maggiore attenzione a quelle che sono le esigenze che cambiano con una velocità incredibile, per cui il territorio si evolve, le esigenze delle persone che risiedono in città continuano a cambiare, ci sono delle problematiche che vanno affrontate e io sono delle idee che vanno affrontate in maniera decisa per non trascinarsi poi nel tempo della situazione che continuano a peggiorare, questo a discapito di tutti. Detto questo, come è mia abitudine, non mi piace mai puntare il dito contro nessuno, perché amministrare una città oggi è difficile, le risorse spesso e volentieri mancano, però è proprio per questo motivo che credo che ci sia necessaria una volontà molto decisa e determinata nel perseguire i propri obiettivi, a prescindere dalle risorse che si hanno a disposizione. Ok, i saronnesi, sappiamo, sono curiosi, per cui raccontiamo un po' la storia politica, sia di Alessandro Fagioli sia di Guido Angeli. Ma fin da adolescente, verso fine anni Ottanta, guardando le buon vecchie tribune elettorali che oggi non si usano più, sentendo per la prima volta esponenti della Lega Nord, all'epoca ancora Lega Lombarda, parlare di politica, si capiva quello che dicevano. A differenza del vecchio sistema del linguaggio del politichese che derivava dagli anni 50 e 60, che ai giorni era abbastanza incomprensibile. Quindi i messaggi che venivano lanciati hanno fatto sì che cominciasse a interessarmi di politica, ma solamente nel 99 ho deciso di impegnarmi attivamente in Lega Nord, trasformando il mio ruolo da simpatizzante in un ruolo da attivista. All'interno della Lega ho avuto l'opportunità di svolgere diversi incarichi, sempre di responsabilità diretta, fin dal gruppo del Movimento Giorno I Padani di Saronno, così via andando, con tutta la gavetta, fino al coordinamento provinciale, altri ruoli di segreteria a livello cittadino, circoscrizionale e ruoli a livello provinciale. Mentre da un punto di vista amministrativo, diciamo quello più importante, sono stati cinque anni in provincia con la giunta a Galli, dove ho svolto l'incarico di assessore al lavoro e politiche giovanili. Angeli, invece, la sua storia politica? In realtà io non posso raccontare una grande storia politica, perché non l'ho mai vissuta direttamente in prima persona, nel senso che non sono mai stato né candidato, né ho militato direttamente in nessuna forza politica, sebbene la politica mi accompagna praticamente da sempre. Fondamentalmente per un profondo senso civico, che mi è stato trasmesso dalla mia famiglia, questo desiderio, questa necessità, anche proprio che sento mia, di occuparmi delle necessità del territorio, delle persone che vivono attorno a me. Quindi la politica io la intendo un pochettino più come missione sociale. Ed è fondamentale, secondo me, che le persone continuino a interessarsi di politica, anche se è un momento difficile, soprattutto vediamo nei giovani, che c'è un progressivo allontanamento dalla politica, perché c'è una grande delusione. Ecco, noi speriamo, anche con la nostra lista civica, con la neonata lista civica, di dare questo tipo di contributo, cioè di portare anche ai giovani che risiedono in città questa voglia di fare politica con cui noi siamo cresciuti in maniera differente. Quindi credo che la politica sia davvero qualcosa di molto, a volte anche molto più intima, insomma. Giusto un'opinione lampo, per voi, quanto è importante l'età di un candidato sindaco, e quindi l'età di un eventuale sindaco, e quanto è importante invece l'essere uomo o donna, sempre per la stessa carica? Allora, sul discorso uomo o donna, non credo che faccia molta differenza, se si ha una visione ampia dei problemi dei propri concittadini. Sulla questione dell'età, si può immaginare che magari una persona un po' più matura possa essere limitata rispetto a un giovane, ma credo che anche in questo caso dipenda proprio dalle singole persone, dai singoli caratteri, e dalle esperienze che ognuno si porta dietro. Angeli? Io sono pienamente d'accordo con Alessandro. Non è un problema di età, non è un problema di sesso, anzi. È un problema principalmente di capacità, di esperienze, di percorsi che si sono fatti. Poi tendenzialmente io sono a favore di una politica giovane, sebbene le esperienze siano comunque importanti, quindi io credo che il nostro candidato sindaco abbia l'età giusta e le caratteristiche giuste. Entriamo nel vivo, partiamo da un argomento che molti saronesi hanno a cuore, la sicurezza. Com'è la situazione qua a Saronno? La situazione a Saronno purtroppo ha avuto un continuo degrado sul tema sicurezza, proprio perché come accennavo in precedenza, questa amministrazione non ha voluto in nessun modo affrontare il tema a livello politico. Quando per cinque anni è stato chiesto la possibilità di costituire una commissione di sicurezza, è sempre stato negato, con la giustificazione che la sicurezza passa prima di tutto dalla commissione cultura. Per questo non è concepibile proprio a livello di ideali di pensiero sulla sicurezza. Cosa poter fare? Vediamo, abbiamo assistito in questi cinque anni a un'escalation su furti nelle abitazioni, rapine, scippi, violenze, quindi una situazione di degrado che è venuta ad aumentare. Vogliamo da un lato a causa della crisi economica, dall'altro anche a la presenza sul territorio di persone che saronnesi non sono e che andrebbero, come dire, tenute monitorate maggiormente attraverso l'utilizzo della polizia locale e una collaborazione stretta con le altre forze dell'ordine e soprattutto una polizia locale che svolga questa tipologia di intervento e magari qualche multa in meno agli automobilisti. Un'opinione di Angeli? La sicurezza innanzitutto è una percezione che il cittadino deve avere. Questo è il problema principale. Il cittadino non deve preoccuparsi del come viene esercitato il controllo del territorio ma deve avere questa percezione di sicurezza. Noi da sempre sosteniamo che bisogna poter passeggiare tranquilli per le città soprattutto stare tranquilli a casa propria. Ritengo che uno dei crimini peggiori sia quello di subire un furto in casa. È una violenza grandissima per una persona. Allo stesso modo è anche peggio, molto peggio le aggressioni che si possono subire per la strada. Quindi la percezione di sicurezza. Poi sulle problematiche lasciamo fare ovviamente ai tecnici e come abbiamo detto, come diceva giustamente Alessandro, alle forze dell'ordine che hanno il compito di lavorare sul territorio anche con l'aiuto dell'amministrazione. Allora noi come Sarono.tv abbiamo ricevuto parecchie segnalazioni ad esempio di nomadi in centro piuttosto che in altre aree della nostra città spesso e volentieri che chiedono le lemosine insomma in fase di accattonaggio. Questo secondo voi è un problema e come eventualmente risolverlo? Allora innanzitutto stiamo vivendo in un periodo storico dove a livello governativo e parlamentare hanno depenalizzato tutti i rati fino ai 5 anni. Quindi anche le forze dell'ordine penso che siano scoraggiate al dover intervenire su determinati fenomeni. Dall'altro punto di vista però dobbiamo verificare e considerare chi è saronnesi di residenza e chi non lo è. Vedere il pendolarismo dell'accattonaggio che dura da almeno 15 anni i cittadini sono stanchi sono stanchi di vedere le stesse persone che arrivano in treno tutte le mattine e poi si dirigono in varie zone della città col bicchierino in mano a chiedere le lemosina. Allora mi domando se sono persone che sono residenti presso altri comuni e sono persone che veramente dovessero vivere difficoltà economiche dovrebbero rivolgersi ai servizi sociali dei propri comuni. Quindi qui bisogna capire se sono persone che veramente vivono delle difficoltà oppure sono delle persone che di mestiere per libera scelta svolgono questa attività di accattonaggio. Secondo noi chi da altri comuni arriva a Saronno per svolgere questo tipo di attività che per noi non è opportuno fare deve essere allontanato dal nostro territorio. Angeli, un'opinione? Io sono pienamente d'accordo anche in questo caso Ritengo oltretutto che a volte in buona fede spesso il cittadino si ritrova magari a dare un contributo così a queste persone non pensando poi a tutti i retroscena che ci sono ad accordo, sono d'accordissimo con Alessandro bisogna rivolgersi ai centri sociali a chi può dare un aiuto concreto a queste persone non è questo il giusto modo di sostenersi e poi contribuisce anche al degrado delle città. Poi una questione che non è solo locale chiaramente si parla di flusso migratorio flussi migratori che negli ultimi anni stanno raggiungendo delle vette importanti da questo punto di vista un'opinione da cittadino italiano e saronnese? Allora innanzitutto per quanto riguarda un comune bisogna verificare chi è residente chi è residente con cittadinanza italiana chi è residente e fa parte della comunità europea e chi invece è al di fuori della comunità europea quindi extracomunitario. Allora gli stranieri vengono in Italia per la possibilità di un lavoro nel momento in cui il lavoro non c'è hanno sei mesi di tempo per trovare un nuovo impiego oppure devono essere rimpatriati quindi anche in questo caso fa rispettare le leggi ed evitare che persone che hanno i diritti per poter usufruire dell'assistenzialismo a livello locale non dovrebbero poterne accedere quindi priorità ai saronnesi gli altri con i debiti diritti però devono essere tutelati in un secondo momento. Invece una battuta per esempio per la lista saranno protagonista? Anche in questo caso siamo d'accordo con Alessandro su tutto quello che è il problema chiamiamolo così immigrazione perché di fatto lo sta diventando questi flussi sono in costante aumento c'è una capacità ricettiva anche da parte non soltanto di San Onno ma parliamo proprio a livello nazionale che è ridotta ormai facciamo davvero fatica quindi credo che sia un problema che anche questo va affrontato in maniera seria responsabile, consapevole proprio per aiutare queste persone. Ecco, aggiungo se permettete una cosa allora non ho toccato il tema clandestino perché a un conto sono flussi migratori di persone che arrivano in Italia passando la dogana e con tutti i crismi previsti dalle leggi chi arriva in maniera illegale senza passare dalle dogani per quanto mi riguarda non meritano le attenzioni dovute ovvero se sono in difficoltà vanno aiutate una doccia, una visita medica un piatto di pasta per essere rifocillati e poi tornare ognuno a casa proprio. Ecco, le aree dismesse le aree dismesse potrebbero essere utilizzate proprio per diminuire questo tipo di problematiche e per migliorare anche la sicurezza? Le aree dismesse in realtà in questo momento fungono proprio da bacino di salvaguardia di chi in regola non è. Le aree dismesse devono essere come dire inaccessibili ai cittadini perché spesso troviamo muri abbattuti reti tagliate e c'è anche la preoccupazione che magari i ragazzini o cittadini che vogliono curiosare vadano a entrare in queste proprietà con il rischio anche di farsi male quindi bisogna insieme alle proprietà di queste aree fare in modo che appunto le stesse aree siano inaccessibili. Guido Angeli, le aree dismesse possono essere un valore aggiunto in futuro? Le aree dismesse possono essere un valore aggiunto se verranno riqualificate e utilizzate per altri scopi che sono più interessanti per tutti i cittadini. Di sicuro non è questo il modo di impiegarle e sono d'accordissimo che diventano anche pericolose. Prima di chiudere il primo blocco un'opinione flash si è parlato nei mesi scorsi della possibilità di introdurre e di costruire una moschea nella nostra città. Ecco, un'opinione da parte di Lega Nord saranno protagoniste della vostra coalizione. Allora, Moschè a Saronno perché abbiamo residenti saronnesi e di cittadinanza italiana di questa religione non ho i dati non posso dare una risposta in base ai dati. Secondo me non ci sono le necessità per intraprendere questo genere di attività. Angeli? Siamo completamente d'accordo con il pensiero del nostro candidato sindaco premesso che appunto noi siamo favorevoli a qualsiasi forma di culto però bisogna valutare bene tutte le esigenze. Benissimo cari telespettatori siamo giunti alla fine del primo blocco restate lì mi raccomando non cambiate sito rimanete lì connessi con noi e a presto. Bentornati a Sottoscacco bentornati dopo il break siamo qui con il candidato sindaco Alessandro Fagioli e Guido Angeli punto per la lista Saronno protagonista ripartiamo subito con un tema molto caldo che sta a cuore di tutti sono degli acronimi che spaventano perché insomma parliamo di tasse quindi partiamo con la IUC che poi si divide in Tasi Tari Imo insomma questi cittadini avranno una speranza da qui ai prossimi anni di avere il portafoglio un po' più pieno l'obiettivo l'obiettivo da parte nostra è proprio quello partendo dal presupposto che chi ha delle proprietà private come immobili non li ha certamente rubati mettendo via risparmiando se li ha comprati quindi se guardiamo il discorso casa-abitazione dobbiamo anche valutare che chi ha un immobile di proprietà leva un problema all'amministrazione o comunque allo Stato di dover realizzare nuovi alloggi quindi anche chi ha più immobili e li dà in affitto quindi sono proprietà private condotte non proprietà private abbandonate dà un vantaggio anche agli altri cittadini sempre andando a sgravare problemi all'amministrazione pubblica è chiaro che serve equilibrio tra edilizia popolare case popolari e privato quindi prendendo il presupposto che tutti siamo tassati sul reddito in maniera progressiva sulle aliquote quindi esiste già in quel meccanismo una quota patrimoniale quindi chi ha di più paga di più e allora perché chi ha un immobile ha una casa che avendo risparmiato con una vita di lavoro debba essere tassato e quindi tartassato semplicemente per il fatto di aver risparmiato o aver comprato un bene che gli serve come abitazione questo per noi non è concepibile quindi anche lì però bisognerà fare pressioni sullo Stato quindi sui parlamentari affinché vadano a levare tutti questi tipi di tasse sulle case Guido Angeli le tasse riguardano anche i commercianti soprattutto i commercianti assolutamente in questo caso cosa si può fare? è auspicabile riuscire quantomeno a trasformare quelli che sono i proventi di tasse in servizi per chi esercita delle attività professionali sul territorio in questo caso il comune può fare molto per esempio alleggerendo in qualche modo i commercianti da alcune imposte che possono essere tranquillamente in un momento soprattutto difficile come questo bypassate in altri casi quello che viene versato nelle casse del comune è auspicabile che rimanga il più possibile in comune ma questa è una lunga battaglia ma sicuramente bisogna partire anche dal piccolo per riuscire ad ottenere questo risultato che è fondamentale cioè riuscire a trenerci i nostri soldi e impiegarli sul territorio quindi un doppio aiuto che il comune si deve impegnare a dare anche ai commercianti che non dimentichiamoci che sono la spina dorsale la colonna portante soprattutto delle nostre piccole città ecco dalle tasse alla scuola il servizio pubblico saronnese da questo punto di vista come sta andando e se è migliorabile sia a livello di servizio scolastico sia a livello di strutture poi scolastiche allora partendo dal presupposto che il comune è proprietario quindi deve garantire la sicurezza degli stabili e degli immobili c'è anche una questione di decoro e di attrezzature credo che i saronnesi pagano fiori di tasse allo Stato lo Stato purtroppo con i tagli lineari che ha fatto negli ultimi anni crea dei problemi a chi deve gestire queste strutture quindi all'amministrazione comunale però dobbiamo fare delle scelte affinché i ragazzi vivano in un ambiente decoroso e ben attrezzato quando vediamo che i genitori volontariamente si recano sui plessi scolastici e si mettono ad imbiancare questo è un qualcosa in più non è un volontariato che fa risparmiare l'amministrazione o fa risparmiare tasse al cittadino no le tasse sono state pagate anche per avere i muri imbiancati quindi questo dovrà avvenire una battuta Angeli? sono assolutamente d'accordo non devono essere i genitori che imbiancano le scuole i genitori devono essere tranquilli e sereni che i loro figli possano stare in una scuola che è ben attrezzata ben servita sicura efficiente ecco poi i giovani dopo la scuola si trovano catapultati nel mondo del lavoro ecco è un problema anche qui nazionale è un problema che negli ultimi anni ha aggravato la situazione di molti giovani ma non solo i giovani perché ricordiamo i recenti tagli e quant'altro ha sicuramente portato tanti uomini di mezza età senza appunto un impiego un'opinione cosa si può fare? allora su questo tema potreste qui a parlare per un'oretta e mezza però visto il tempo limitato vi annuncio che l'obiettivo è quello di collaborare a stretto contatto con le associazioni di categoria saronnesi affinché si possano trovare quei meccanismi di incentivo agli imprenditori locali affinché prima quando hanno necessità di assumere personale possano prima fare delle selezioni su cittadini saronnesi indipendentemente dall'età dal genere e dal ruolo professionale proprio perché trovando dei meccanismi di sgravo fiscale sugli immobili produttivi si potrebbe ottenere in cambio questo tipo di coinvolgimento da parte degli imprenditori abbiamo tutti i meccanismi abbiamo i centri per l'impiego abbiamo le società private che si occupano di personale e mettendo tutto questo in rete credo che sia possibile raggiungere determinati obiettivi certamente questo non genera nuovi posti di lavoro ma può permettere saronnesi di poter accedere a quei posti di lavoro disponibili Angeli una battuta riguardo a questo tema che è molto delicato è delicato ma è importante io ritengo che l'amministrazione debba farsene pienamente carico perché è uno degli aspetti più importanti per i cittadini di un comune per cui sostenendo sicuramente le iniziative le idee dando un contributo anche pratico e concreto dove è possibile per chi si vuole reinventare perché questa è un'altra grande realtà ci sono tante persone che perdono il lavoro hanno la voglia di reinventarsi e poi si scontrano tragicamente spesso e volentieri con una burocrazia che troppe volte è sorda ai problemi poi di chi vuole ripartire si su questo ci sono stati anche nel recente passato progetti regionali coadjuvati da Camera di Commercio la provincia di Varese proprio per spiegare chi vuole aprire un'attività in proprio chi ha fatto una vita da dipendente vuole aprire un'attività in proprio deve essere consigliato guidato e formato altrimenti rischia di aprire una società o una partita IVA investire del proprio capitale anche magari di una liquidazione di un licenziamento o di una messa in mobilità e rischiare di sperperare denaro in un'impresa che non può stare in piedi quindi bisogna anche trovare quei meccanismi per dare formazione in questo tipo di settore ecco prima di cambiare completamente argomento un'opinione sui centri sociali cosa intendiamo con centri sociali cioè il centro anziani il vecchio centro sociale che c'era che c'era il Matteotti dove attualmente se non sbaglio ci sono delle associazioni che operano per il bene dei cittadini o parliamo di occupazioni abusive la seconda la seconda occupazioni abusive fatte da gruppi che non sono ufficializzati a quanto mi risulta non hanno uno statuto associativo e niente quindi per me questo è un problema di natura come dire giudiziario legale mettiamola così se questo solleva questioni inerenti alla mancanza di abitazioni per saronnesi che vengono sfrattati non trovano un alloggio comunale solleva questioni di natura lavorativa allora questi sono temi che vanno affrontati quindi ci sono anche queste segnalazioni forti ma non deve essere una giustificazione per mettere la città a suo quadro imbrattare muri e fare un'attività politica antagonista a qualsiasi cosa che viene posta in campo dagli enti ufficiali guido angeli un'opinione sempre su questo tema sono assolutamente d'accordo anche in questo caso con alessandro ritengo allo stesso modo che siano necessari degli spazi per i giovani e l'abbiamo previsto anche nel nostro progetto ma spazi che siano adibiti in maniera legale a persone che vogliono costruire qualche cosa e non distruggere sicuramente mi riallaccio alla questione quindi di associazioni ufficiali allora Saronno ha numerosissime associazioni che vanno dall'associazione sportiva di volontariato ludica culturale e quello che ci viene segnalato da anni è che manca un'area attrezzata dove queste associazioni possono svolgere le loro feste annuali fino a qualche anno fa c'era l'area di via primo maggio che veniva adibita a feste estive dobbiamo poter trovare il luogo adatto dove installare un tendone che possa essere tenuto 365 giorni all'anno con cucina attrezzata palchi in maniera tale che l'associazione e anche i ragazzi si possono esibire e sul tema giovani dal punto di vista aggregativo dobbiamo considerare che abbiamo una città che ha delle bellissime piazze dei bellissimi angoli delle bellissime vie dove poter adibirle strutturarle basta un paletto un quadro elettrico per l'energia elettrica dove poter far esibire ovviamente quando il tempo lo permette tutti questi ragazzi che possono svolgere attività sportive culturali artistiche di varia natura ecco andiamo avanti e parliamo di viabilità un altro argomento caro ai nostri concittadini da questo punto di vista c'è il famigerato 30 all'ora che era nato con motivazioni di natura di salvaguardia nei confronti dell'inquinamento ambientale poi dopo ce l'hanno venduta come una questione di sicurezza alla viabilità abbiamo visto svolgere una serie di interventi e di spese secondo noi nella grande maggioranza dei casi inutili e anticipando troppo i tempi l'ultima opera viabilistica che è stata realizzata in via Varese secondo noi sono state risorse sprecate in quanto anticipano troppo i tempi prima vogliamo vedere i progetti sull'area di smesse di tutta via Varese e successivamente si fanno determinate opere oggi sono state installate delle piazzolle di salvaguardia per i pedoni nell'attraverso il momento della strada ma dall'altra parte c'è il nulla c'è il nulla quindi risorse che in questo momento si sarebbero potute spendere per altre priorità Angeli un'opinione sulla viabilità se c'è qualche progetto che è andato bene magari di questa amministrazione qualcosa che è andato meno bene secondo me c'è molto da fare sulla viabilità e noi abbiamo diversi progetti per il futuro della viabilità di Saronno non ritorno sui 30 all'ora sono antipatici a tutti però va anche detto che prima di parlare secondo me di 30 all'ora o di altri limiti o di dissuasori o quant'altro bisogna parlare anche in questo caso di responsabilità di senso civico ci sono delle aree dove è necessario circolare a velocità moderata perché ci sono bambini scuole anziani e quant'altro ci sono delle vie di scorrimento dove il traffico deve essere agevolato questo è fondamentale quindi il lavoro anche in questo caso deve essere fatto in maniera seria intelligente e soprattutto con grande capacità altrimenti non si va da nessuna parte creiamo solo problemi collegandoci al tema viabilità al tema strade abbiamo ricevuto alcune segnalazioni di servizi per quanto riguarda il trasporto pubblico ecco su questo argomento che molto spesso si trovano a discutere fra i saronnesi un'opinione nel merito sì noi abbiamo ricevuto diverse segnalazioni sulla difficoltà nel reperire biglietti dove spesso la persona deve fare più metri per andare a comprare il biglietto che non i metri che utilizza con l'autobus mi domando se nel 2015 dobbiamo ancora stampare biglietti cartacei quando ci potrebbe essere la possibilità di installare servizi più aggiornati e quindi con delle tessere magnetiche a scalare che uno le può caricare un totale a settimana e poi utilizzando i mezzi con un sistema scalare quindi si possono modernare in più anche proprio l'aspetto dell'utilizzo dei mezzi e dei percorsi può essere tranquillamente rivisto sia appunto nei percorsi che negli orari Guido Angeli sul trasporto pubblico sicuramente sono d'accordissimo con Alessandro bisogna cambiare il modo di utilizzare i mezzi pubblici quindi con le nuove tecnologie non è vero che sono difficili da utilizzare perché una tessera scalare può utilizzarla tranquillamente anche una persona anziana anzi in maniera ancora più semplice non deve nemmeno obliterarla abbiamo tecnologie quali le tecnologie di prossimità l'NFC e quant'altro che ci permettono semplicemente di avvicinare una tessera che può essere anche una carta di credito una tessera scalare a un lettore pagare il nostro bus o il servizio come può essere anche il treno e quant'altro bisogna adoperarsi con gli enti preposti per riuscire ad adottare queste tecnologie che ormai già si trovano in tutta Europa e non vedo perché noi dobbiamo essere un po' il fanalino di coda dell'Europa ecco se posso aggiungere ho avuto nella mia esperienza di servizio civile che ho svolto a Torino ero alla Lega Nazionale per il diritto al lavoro degli handicappati e ci si occupava spesso di mobilità per i disabili quindi pulmini a chiamata attrezzati piuttosto che buoni sconto per i taxi quindi ci sono possibilità anche per i disabili di poter creare quegli strumenti e quei progetti affinché possono avere una maggiore vivibilità della città gli animali insomma tanti saronnesi amano gli animali domestici amano cani gatti eccetera il problema del randagismo ricordiamo che a Saronno non abbiamo a tutt'oggi un canile municipale di conseguenza poi alcune associazioni di privati piuttosto che canili di altri comuni devono sobbarcarsi appunto questo tipo di eccedenza che abbiamo noi che non possiamo appunto non possiamo coprire c'è un modo per riportare il canile a Saronno o comunque facilitare questo tipo di operazione allora parlando di amministrazione pubblica dobbiamo sempre valutare qual è il costo in rapporto al beneficio nel momento in cui il costo rapporto beneficio porta a avere una struttura sul territorio è bene averla coinvolgendo associazioni di volontariato le associazioni che si occupano di animali se invece il costo beneficio per ora dovesse continuare a fare in modo che ci si debba appoggiare a strutture esterne allora dovrà continuare ad essere così però ripeto bisogna fare uno screening di quello che sono le realtà attuali abbiamo a Guido Angeli su questo argomento sono delle idee che bisogna confrontarsi molto rapidamente anche con quelle che sono tutte le associazioni che operano sul territorio in materia di animali come abbiamo detto è un a Saronno molte persone amano gli animali è importantissimo occuparsi anche di queste questioni che riguardano proprio la nostra collettività fondamentalmente anche in questo caso io tornerei a parlare di senso di responsabilità e di senso civico da parte di tutti anche da parte dell'amministrazione quindi sono perfettamente d'accordo con Alessandro bisogna fare uno screening e capire quali sono le esigenze di Saronno abbiamo ancora un po' di tempo per esempio lo sport in questo caso cosa si può fare per migliorare questa dinamica? Rientra in quello che dicevo prima sull'associazionismo dobbiamo riuscire a valorizzare il territorio e i saronnesi sia come singoli sia come associazionismo allora come fare? attraverso una progettualità quindi finanziamenti non che finiscano a cascata perché arriva il presidente di un'associazione che è più brava a bussare alla porta dell'assessore del sindaco ma con una progettualità decise insieme alle associazioni stesse quindi vogliamo valorizzare sponsorizzare promuovere lo sport lo si fa insieme alle associazioni e si deve mettere in mostra ciò che lo sport può fare per Saronno oltre che nei campionati con gli ufficiali anche con iniziative di piazza affinché lo sport possa essere promosso anche a chi in questo momento non è in grado di avvicinarsi ovviamente come per le scuole le strutture comunali devono essere a disposizione di chi vuole praticare attività sportive ok siamo in chiusura prima di lasciarci in 30 secondi perché il saronnese il cittadino saronnese dovrebbe mettere la conoscetta sulla vostra coalizione siamo l'unica e sola coalizione di centrodestra in alternativa a questi anni di centrosinistra quindi tutte le persone che si sono lamentate ai nostri gazebo e coi nostri consiglieri comunali hanno la possibilità di cambiare il corso della nostra saronno un motto per Guido Angeli quale potrebbe essere? Sicuramente di votarci perché siamo una forza giovane siamo tutte persone che si vogliono mettere in gioco hanno voglia di farlo con grande senso di responsabilità e con consapevolezza dei problemi che ci sono sul territorio che vanno affrontati in maniera come dicevamo già all'inizio decisa e risolutiva siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di sottoscacco speciale elezioni ringraziamo il candidato sindaco Alessandro Fagioli ricordiamo coalizione formata da Lega Nord Fratelli d'Italia Saronno protagonista e Doma Nunc grazie a voi grazie per questa opportunità e un saluto a tutti un saluto anche a Guido Angeli della lista Saronno protagonista grazie a voi e soprattutto grazie a tutti gli elettori di Saronno che vorranno darci fiducia grazie per averci seguito rimanete sui programmi di Saronno punto tv mi raccomando seguiteci sempre ci vediamo alla prossima grazie a tutti grazie a tutti